Finisce in schiaffi e spintoni la bravata di un ragazzino dell'Istituto Comprensivo a Falcone Fermi di San Giovanni Labunta. Non si tratta della prima bravata perché già lo scorso anno il bambino di 9 anni aveva picchiato un compagno facendolo finire in ospedale. Adesso però ad alzare le mani è stato il padre. La bravata in questione è stata quella di chiudere dentro la classe compagni e insegnanti, costringendo il personale scolastico a sfondare la porta per poterli liberare. Un gesto che ha spinto la scuola ad avvisare i genitori che non hanno dato risposta. Di fronte a questo silenzio è stato necessario l'intervento dell'educatore. Fuori dalla scuola la situazione è subito degenerata e il padre del bambino ha cominciato a picchiare l'educatore, accusandolo di aver picchiato a sua volta il figlio. Sono intervenuti a quel punto carabinieri, vigili urbani e servizi sociali. L'allunno intanto è stato sospeso. La scuola ha sempre cercato di lavorare per tenere gli allunni al sicuro, spiega la preside Concetta Matassa.